L'anemirinos o sintetico? 100, 200 o 300 grammi? Insomma, che abbigliamento intimo termico mi compro? Ciao a tutti ragazzi, visto che sta arrivando l'inverno è arrivato il momento di parlare dell'abbigliamento intimo da trekking, trail running ed alpinismo. Insieme in questo video vediamo quali sono le scelte da fare quando andiamo ad acquistare l'abbigliamento intimo, così che quando andrete in negozio a sceglierlo, ad acquistarlo, saprete su cosa concentrarvi e riuscirete a fare il miglior acquisto per le vostre esigenze. La prima domanda che ci facciamo quando dobbiamo acquistare dell'abbigliamento intimo è il materiale. Lo scegliamo in un materiale sintetico o in un materiale naturale? Iniziando ad analizzare un materiale sintetico, che con sintetico di solito si intende materiale come nylon, poliestere o polipropilene, ecco che ci sono dei pregi e dei difetti per ogni materiale. I pregi del materiale sintetico sono sicuramente quello di essere un materiale molto durevole e difficile da rompere. Tendenzialmente il materiale sintetico davvero vi può durare davvero tanti anni, potrete maltrattarlo senza farvi troppi problemi. E allo stesso modo è anche semplice da curare, anche da lavare in sé, è veramente molto semplice. Quindi sicuramente se siete persone magari un po' maldestre, sicuramente questo vi durerà molto più nel tempo. Altro aspetto positivo poi è la parte economica, perché un abbigliamento in sintetico costa sempre meno rispetto a quello in materiale naturale. Soprattutto se volete sparmiare qualche soldo, ecco che l'abbigliamento sintetico sicuramente può fare al caso vostro. Altro pregio, infine, è che il materiale sintetico è un ottimo materiale che trasporta bene l'umidità. Quando noi sudiamo, essendo che non si impregna generalmente di sudore, riesce a prendere bene il nostro sudore e trasportarlo nella parte esterna. Quindi riesce sicuramente a fare un ottimo lavoro di base layer. Ecco che però finiscono qua i punti positivi e iniziamo con quelli negativi. Perché il primo, soprattutto se andiamo a puntare sul delamento sintetico di bassa qualità, è che può dar fastidio alla pelle. Cioè sono dei materiali sintetici, soprattutto davvero quelli molto cheap, che possono dare molto fastidio e creare molte irritazioni. Per lo stesso punto di vista, se poi andiamo ad acquistare il materiale molto cheap, questo tenderà a puzzare anche molto. Quando andiamo a sudare, il materiale non essendo di sua natura anti-odore, sicuramente tenderà a farci puzzare molto. Per quanto riguarda invece delle marche che fanno dell'abbigliamento sintetico, diciamo di qualità migliore, di solito possono usare degli agenti chimici, dei trattamenti che vanno a neutralizzare un pochino i rumori, ma meno del materiale naturale, di cui dopo parliamo. Altro aspetto negativo poi è che non è così termoregolatore come un materiale naturale. Per intenderci, se dovessimo acquistare un capo sintetico da 0 gradi, diciamo che il suo range di temperatura è dai meno 5 ai più 5. Poi vedremo anche il suo rispettivo dal punto di vista naturale. Dunque parliamo dell'alternativa naturale che di solito nel materiale outdoor è la lana merinos. Lana merinos che si ricava da delle pecore, tendenzialmente viene importata dai paesi dell'oceania come Australia e Nuova Zelanda, la maggior parte poi ci possono essere un po' di eccezioni. Questa dal suo punto di vista è sicuramente quella più prestazionale perché ha grossi pregi. Iniziando dal pregio della termoregolazione, visto che abbiamo parlato su quello sintetico, se dovessimo prendere un capo da 0 gradi, ecco che magari qua possiamo utilizzarlo anche fino a meno 7, meno 8 o a più 7, più 8. Ecco che il range di temperatura utilizzabile è sicuramente maggiore. Altro pregio poi è che a parità di grammatura rispetto al sintetico, la lana merino tiene più caldo. Quindi se dovessimo prendere un prodotto che ha davvero la stessa grammatura, quel lana merino ci terrà naturalmente più caldo. E proprio per sua natura la lana merino è anche anti-odore. Non dà nessun trattamento proprio la sua natura che la rende anti-odore. Allo stesso modo proprio la sua natura del filato la rende anche anti-UV. Pochi lo sanno ma la lana merino ha questa sua natura OPF che va a tenere forte quelli sono i raggi UV e se dovessimo utilizzarlo sulla neve sicuramente anche questo può essere un punto positivo. Parlando invece di quelli che sono i difetti, probabilmente il difetto più grosso della lana merino è il suo costo. Perché se prendiamo lo stesso capo in sintetico e il lana merino, ecco che di solito con il lana merino può costare anche il doppio. Quindi sicuramente il prezzo può essere il punto negativo maggiore. Allo stesso modo però la lana merino è anche un materiale abbastanza delicato. Sia nell'utilizzo, che quindi dobbiamo fare un po' attenzione a dove ci muoviamo, sia anche nel lavaggio. Quindi va fatti dei lavaggi apposta per la nana perché se no si rischia di distruggerlo. Ecco che sicuramente dal punto di vista della durabilità e soprattutto della cura bisogna farci molta più attenzione rispetto a un capo in sintetico. Quella che abbiamo appena visto però è la teoria, ovvero se avessimo dei capi 100% sintetici, 100% naturali. Perché poi come sappiamo i produttori fanno un po' quello che vogliono. Infatti capita spesso di trovare dei capi che sono metà sintetici, metà naturali. Vale la pena acquistarli? Allora sì e no, nel senso che io sono sempre l'idea che se uno vuole risparmiare veramente, meglio andare su un capo in sintetico. Se uno vuole acquistare invece qualcosa di veramente ottimo, meglio andare su uno che abbia un alto percentuale di lana merino. Queste via di mezzo diciamo che non sono né carne né pesce. Almeno che non si trovi a dei prezzi veramente super convenienti, meglio magari optare per le due alternative un pochino più classiche. La seconda scelta dopo quella del materiale è anche scegliere quanto lo vogliamo pesante. Qui apro una piccola parentesi perché quello che vi sto per dire sono dei rangi di temperatura indicativi. Gli indicativi perché come sappiamo ognuno di noi soffre il freddo, sopporta il freddo a modo suo. Quindi sono appunto range e indicativi, poi è importante che voi vi conosciate personalmente e sappiate quanto sopportate o quanto soffrite il freddo. Per scegliere la temperatura di utilizzo ci basiamo su un dato che di solito viene importato dai produttori, ovvero la grammatura del capo che viene misurata in grammi per metro quadrato. Questo ci aiuterà a capire appunto quanto è pesante il capo e a che temperatura è consigliato utilizzarlo. Abbiamo tre grandi famiglie. Una famiglia che va dai 100 ai 200 grammi per metro quadro. Questi vengono definiti in abbigliamenti intimi più leggeri. Leggeri perché li possiamo utilizzare tendenzialmente da temperature che possono andare dai 10 gradi agli 0 gradi. Ecco che in questo caso abbiamo appunto un abbigliamento che a livello termico non è che ci tenga sto gran caldo, anche perché quando siamo a 5 gradi non è che faccia tutto sto freddo, ma soprattutto abbiamo un abbigliamento intimo molto molto traspirante, proprio perché essendo un strato molto leggero avrà un'alta traspirabilità. Questo tipo di capo oltre che per queste range di temperatura è consigliato anche per chi fa dell'attività molto impattante, molto aerobica, ad esempio dei trekking molto duri, del trail running, chi comunque suda tanto. In questo caso sicuramente l'alta traspirabilità può essere un ottimo vantaggio. La seconda grande famiglia è quella che va dai 200 ai 300 grammi per metro quadro. Questa diciamo che è un pochino la via di mezzo, tendenzialmente la si trova dagli 0 ai meno 10 gradi. In questo caso è appunto la via di mezzo che può andare bene un po' per tutto. Anche qua mi raccomando ricordatevi sempre come voi soffrite il freddo, però queste che poi sono in lana merino o in sintetico sono quelle tendenzialmente più vendute e anche più conosciute, perché appunto sono quell'ottimo compromesso tra traspirabilità e calore. Sopra i 300 grammi per metro quadro ecco che arriviamo ad avere un abbigliamento intimo veramente tanto tanto caldo. Questa si parla di temperature che vanno dai meno 10 in giù ed abbiamo soprattutto un capo che essendo molto spesso, molto caldo, ha pochissima traspirabilità. Questo è importante da sapere perché molte volte anche se andiamo a temperature basse, veramente basse, magari se facciamo un'attività ad alto tasso aerobico è meglio prendere un qualcosa che sia per una temperatura un pochino superiore per evitare di sudare troppo. Diciamo che in questo caso soprattutto questo tipo di materiale è più pensato anche per chi sta fermo, davvero per chi ha bisogno di qualcosa che lo tenga caldo senza che sa il corpo a scaldarci a sua volta. Un aspetto molto importante però che non va assolutamente trascurato è il fit di questo abbigliamento, perché come abbiamo visto l'abbigliamento intimo naturalmente ci deve tenere caldo, ma è importantissimo che sia anche traspirante, che svolga la funzione di prendere il sudore che esce dalla nostra pelle trasportarla verso l'esterno, verso i successivi strati per poi andare a espellerlo completamente dal corpo. Ecco che se noi non prendiamo un abbigliamento che sia aderente questa cosa non funziona. Noi dobbiamo assolutamente prendere un abbigliamento che sia il più aderente possibile al nostro corpo e facciamo attenzione perché deve essere aderente e non farci a sacca che poi sembra di essere dentro un salame. Quindi deve essere aderente ma non stringere troppo perché se no è un controproducente. E appunto è molto importante perché se invece noi sudiamo, magari abbiamo anche un abbigliamento particolarmente traspirante e il sudore non viene portato fuori, questo può rappresentare un grosso rischio se c'è vento, se c'è una temperatura molto fredda. Quindi provatelo sempre, soprattutto in caso in cui vi stringa tanto, anche una mezza taglia in più non è una cattiva idea, l'importante è che il fit sia bello slim, non tagli regular o in generale comunque niente che svolazzi. Arrivato a questo punto diciamo che abbiamo scelto un pochino le caratteristiche più importanti. Da qua in poi i vari produttori sono sbizzarriti nel aggiungere le varie caratteristiche. Ad esempio possiamo trovare dell'abbigliamento intimo con cerniera che può tornare utile soprattutto se magari becchiamo una giornata particolarmente calda e non ci aspettavamo. Una cerniera per aprirsi un po' può tornare utile sicuramente. Ci sono degli abbigliamenti intimi che poi hanno per esempio anche la parte di polsino per le mani che anche quello torna molto comodo, soprattutto se poi ci mettiamo sopra un guanto proprio per evitare che entri aria da qualsiasi parte esterna. Diciamo che davvero poi qua si entra in un campo dove i produttori appunto hanno fatto delle soluzioni tecniche interessanti, chi più chi meno, quelle sono da valutare caso per caso, ma sicuramente avere una qualche chicca in più può aiutare nella termoregolazione. Dunque diciamo che sull'abbigliamento intimo abbiamo detto tutto. Ricordatevi che la cosa più importante è sempre conoscersi, sapere quanto si soffre o si sopporta al freddo. Ricordatevi poi che l'abbigliamento intimo è sempre pensato da accompagnare a un secondo strato o comunque a degli strati superiori. Tendenzialmente è abbastanza difficile che si vada in giro solo con l'intimo. E questo è molto importante che il primo strato e il secondo strato possano lavorare bene tra di loro perché così la catena dell'esportazione del sudore può continuare e non avremo problemi di sudorazione eccessiva. E tutto ciò ragazzi, sono una speranza di stato esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio che l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!